Hai ragione Domenico perché purtroppo continuiamo a parlare di un caso di femminicidio e di una svolta processuale che lascia veramente tutti con l'amaro in bocca perché sto parlando dell'omicidio, il femminicidio di Lorena 40 infatti la Cassazione annulla la condanna all'ergastolo perché la condanna all'ergastolo del fidanzato di Lorena dicendo che il fidanzato era stressato dal lockdown e da covid, che cosa è successo? Il 31 marzo del 2020 Antonio De Pace, convivente di Lorena, la uccide, lei aveva 27 anni, si stava per laureare la strangola, la uccide a mani nude, confessa subito, gli viene dato l'ergastolo dopo due gradi di giudizio oggi però c'è una svolta processuale, cioè che cosa succede? I giudici della Cassazione hanno infatti chiesto l'annullamento temporaneo della pena accogliendo di fatto la richiesta della difesa secondo cui De Pace in quel momento era affetto da una temporanea infermità mentale dovuta allo stress e alla paura del covid ma prima di presentarvi i nostri ospiti di studio vediamo il servizio della nostra Paola Tavella Nella primavera del 2021, 23 giorni dall'inizio del primo lockdown, a Furcisiculo vicino a Messina Lorena, 40, 27 anni, quasi laureata in medicina, muore strangolata dal fidanzato infermiere che senza ragione l'accusa di averlo contagiato condannato all'ergastolo, ora la Cassazione chiede un nuovo processo per valutare lo stress causato dalla pandemia Protestano famiglie e centri antiviolenza, se va considerato lo stato emotivo degli assassini allora tutto può essere giustificato La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha scoperto che le motivazioni più frequenti per le attenuanti sono confessione, essere incensurati, condotta processuale, età dell'imputato, pentimento e a queste si aggiungono basso quotiente intellettivo, essere un ottimo lavoratore attaccato alla famiglia depressione, emarginazione, problemi economici e di salute La Commissione ha reso noto anche che le pene richieste da IPM sono più alte rispetto a quelle poi inflitte in particolare la percentuale di ergastoli di mezza, mentre le pene sotto i 15 anni raddoppiano Buongiorno e benvenuto Francesco Menditto, buongiorno procuratore della Repubblica Italiana del Tribunale di Tivoli Bentornata a Navagli, criminologa Allora, il papà di Lorena, in un'intervista a caldo, diciamo dopo questa sentenza dice l'ergastolo cancellato per Covid all'assassino di mia figlia è una tinturia è la cattiveria di una giustizia malata che cerca spiegazioni cervellotiche quindi lui dichiara mia figlia è stata uccisa due volte perché arriva? Allora, la più grande e massima solidarietà ai familiari della vittima questo lo dobbiamo dire con forza e è più che comprensibile che ci sia una reazione di questo tipo per dei genitori perdere un figlio è perdere tutto e non si supera mai questo momento detto questo, femminicidio l'unica parola che noi non abbiamo in questa vicenda è della vittima vede la difficoltà di ricostruire un episodio quindi non a voce la vittima spieghiamo un attimo una cosa, in 30 secondi la Corte di Cassazione che ha fatto tanti passi avanti in questi anni ci tengo a dirlo, la magistratura è lo specchio del paese non siamo tutti avanti in questo settore lo siamo a macchia di leopardo in questo caso ha rigettato, cioè ha respinto la tesi difensiva per cui l'imputato sarebbe stato incapace di intendere di volere quindi diamo un punto a favore della Cassazione Sì, però stressato da Covid Aspetti un attimo, il 50% degli autori di femminicidio sostengono di essere incapaci di intendere di volere l'abbiamo buttato via la Cassazione in questo caso ha valorizzato un aspetto può essere condiviso o meno ha detto attenzione, voi giudici di secondo grado dovete spiegare meglio perché non sono state concesse le attenuanti generiche perché forse, questo è il senso della sentenza il Covid potrebbe avere influito ma la Corte d'Appello di Reggio Calabria a cui torneranno gli atti potrà tranquillamente confermare il gastro dicendo come molti pensano in verità io non posso esprimermi nel caso concreto naturalmente ho dei limiti che il Covid in questo caso non può ovviamente influire sulla pena sulla capacità, sull'entità della pena però vogliamo chiarire per chi ci segue da casa perché è molto importante è una questione veramente molto delicata qual è la differenza tra l'infermità mentale quindi l'incapacità di intendere e di volere e questo di cui parliamo cioè lo stress da Covid e da qualsiasi altra cosa potrebbe essere poi, no? assolutamente, l'incapacità di intendere e di volere significa che la persona in quel momento non poteva comprendere quello che stava facendo per cui addirittura o viene assolto e andrà curato oppure ha una diminuzione della pena in questo caso è stata rigettata questa richiesta diciamolo perché è importante dall'altro ci sono tante ragioni per cui i giudici possono concedere le cosiddette attenuanti generiche cioè per ridurre la pena rispetto al caso concreto in questo caso la Corte di Cassazione ha detto attenzione, forse c'era questo particolare stress però ripeto, i giudici d'appello riesamineranno la situazione e potranno confermare devo dire, io ho letto con attenzione la sentenza voi dovete criticarle perché avete il diritto perché le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano in nome di tutti noi io ho dei limiti devo dire che normalmente la Cassazione rigetta questi ricorsi che tendono al riconoscimento delle attenuanti generiche in poche righe per motivi tecnici che non le so dire è per quello che tutti ci stiamo interrogando in questo caso dedica tre pagine e diciamo non è frequente che lo faccia io più di questo non posso dire Dottoressa Vaglia, allora nell'intervista del papà di Lorena c'è una frase che mi ha colpito particolarmente e che dovrebbe far riflettere tutti noi cioè lui dice sembrava un ragazzo per bene abbiamo sottovalutato il rancore che provava perché anche in questo caso come nel caso di Giulia Cecchettin ci troviamo di fronte a due ragazzi che si stavano per laureare gelosia, invidia, rancore, stress come viene dichiarato insomma a me questa cosa qua di sembrava un ragazzo per bene preoccupa moltissimo perché è la frase che potremmo pronunciare tutti noi sulla quale veramente ci dobbiamo interrogare Lorena Quaranta in questa storia è vittima due volte vittima perché è stata uccisa da chi le ha attribuito la colpa di avergli attaccato il covid e vittima di questa sentenza ti rispondo Greta era un bravo ragazzo questo perché? perché dal di fuori se la violenza non è fisica e ci arriva solo alla punto dell'iceberg è prima psicologica ed è quella sottosoglia quella che non si vede quindi questo era un bravo ragazzo si riconduce proprio al senso di colpa quel senso di colpa che quasi arriva però a giustificare la condotta di De Pace io vorrei fare un passaggio lui era stato periziato è stato riconosciuto come pienamente capace di intendere e di volere e lo stress emotivo è una relazione psicologica temporanea è una situazione ma non è grave come la capacità di intendere e di volere certo e quindi lui aveva capacità di scegliere e di decidere quello che fare non l'ha fatto e l'ha addirittura strangolata una modalità omicidiare che richiede una prossimità fisica che denuncia mancanza di empatia ma non alcuna situazione di stress perché c'è una io che lavoro con i centri di antivelenza l'estate aumentano i femminicidi è vero per quello che noi ne parleremo per tutta l'estate perché d'estate aumentano perché si chiama effetto weekend cioè il partner ha più tempo da passare con la propria compagna e quindi di default aumentano i maltrattamenti purtroppo i femminicidi se noi passiamo il messaggio che durante il covid in ampi spazi temporali è possibile uccidere giustificandosi con lo stress emotivo allora anche in estate certo però il padre parla di rancore a me questo colpisce perché il rancore è un sentimento che tutti possiamo provare una volta nella vita ma il tema è saper gestire i sentimenti le sconfitte i no il fatto che qualcuno ti superi no e che lei riesca a laurearsi prima stessa cosa che era successa con l'omicidio il femminicidio di Giulia Cecchettin tant'è che i familiari cosa dicono è il vostro bravo ragazzo cioè c'è sempre questo tema come si fa a cercare di monitorare guardare questi giovani questi bravi ragazzi quelli che noi definiamo dei ragazzi per bene come educarli crescerli all'emotività negata anche al sentimento negato Greta è colto proprio il punto centrale incapace ad accettare un no e proprio questo punto spinge ad una riflessione che è lampante anzitutto bisogna educare i bambini a no perché un bambino che non riceve un no oggi sarà un adulto che sarà incapace di reggere la frustrazione quindi questo bisogna partire e poi dire alle ragazze alle ragazze giovani perché come abbiamo visto la violenza si abbassa di non aver paura di denunciare di raccontare mai vergognarsi mai vergognarsi di denunciare di raccontare perché si deve vergognare chi ha tua violenza nei confronti di una persona più debole di qualcun altro quindi raccontate sempre tutto questo è importantissimo e per questo noi continueremo a parlarne per tutta tutta l'estate posso dire una cosa velocissimamente certo siamo tutti vittima di una cultura se lei ha ascoltato la canzone che c'è stata un attimo fa così piccola e fragile una canzone che abbiamo amato noi di una certa età c'è una cultura che tende a ridimensionare le donne a non riconoscere il diritto di libertà e soprattutto alla discriminazione se un uomo non è capace di riconoscere le qualità della donna e di avere anche un titolo inferiore un lavoro inferiore allora c'è la discriminazione che è una delle ragioni del femminicidio grazie sono felice che l'abbia pronunciata lei questa frase che è un uomo mi consenta solo di dire due cose le donne devono denunciare ma attenzione andate primi ai centri antiviolenza perché il processo penale è complicato secondo messaggio mi consenta una ragazza se viene controllata nel cellulare non è un atto d'amore è un primo atto di violenza lasciate questi ragazzi ne troverete altri meravigliosi grazie grazie davvero procura puntuale vendito grazie a Navagli come sempre molto puntuale allora